Signori, io sto registrando un po' di turni nello stesso giorno, quindi mi vedrete uguale. Allora, oggi siamo davanti al terzo turno del torneo del server Discord che trovate in descrizione di GT. Oggi ci sono, uno contro l'altro, Emanuele64, ovvero Lucera, e Shura. Sono due miei compagni di team che si sono trovati contro, stavano tutte e due 2-0 in questo momento. E quindi ho usato loro come future match, mettiamola così. E niente, io direi di andare a vedere come se la sono giocata tutte e due, perché giocano due mazzi veramente molto interessanti. Salve, yo-yo-yo-yo-ho-ho, Gaming Tonight, gno-ho-ho. Per la quinta volta facciamo sto duello a problemi tecnici, dovuto ripetersi per svariati motivi. Speriamo in un buon duello senza brick. Bella a tutti i fans di GT. Buona fortuna, abbia divertimento, va caspo, vabbè. Comunque, carta, quindi vince Emanuele64 che partirà primo. E i mazzi che stanno giocando i nostri cari amici qui sono Matmec e Sprite. Come vedete, Emanuele parte con Prosperity, Jet, Droll, Starter e Blue. Mentre Davide, che è Shura, parte con Nibiru, Addizione, Circular, Ash e Vailer. Sto mazzo è spaventoso. Può giocare una quantità di entrap imbarazzante ed essere comunque fottutamente consistente. È pazzesco sto mazzo. Allora, parte Sprite. Quindi, stand by. Attivo starter. Evoco red. Main phase 1. E vive el tin katana. Vero, vive el tin katana. Special di Jet. Effetto, aggiungo double cross. Special di Blue. Effetto, vado a prendere Carrot. Special di Carrot. Chi ha mandato? Blue e Jet vanno via. Vanno ad evocare Sprint. Effetto di Sprint. Va a mandare... Niente. Bene. Lucky. Prosperity. 1, 2, 3. Ash. Ok, quindi banna soltanto 3. Onesto. Si prende Ash. Setto. Fine main. Sì, ha dichiarato fine main. Nibiru vuole entrare. Red vuole negare. Passo. Ok, onesto. Quindi sostanzialmente il mazzo, cioè il nostro caro giocatore di ritorno, il nostro caro Emanuele, ha fatto double cross passo che è con i droll in mano. Ok. E vabbè, ha un negate di mostro, ha double cross che è un'interruzione, ha droll, ci può stare. Sotto tre interruzioni. Eppure normale. Quindi, circular effetto, sigma. Evoco. Effetto circular. Aggiungo equazione. Droll. Onesto. Linguribo. Special di diametro. Red vuole negare diametro. E spaccare. Addizione. Effetto target linguribo. Evoco. Equazione. Reborno diametro. E 1 e 2 vanno ad evocare up the jammer. 1 e 2 vanno ad evocare transcode. Transcode vorrà rebornare up the jammer. 1 e 2 andranno a fare accesscode. E accesscode diventa un 5003 che può attaccare due volte. Ok. Beh, molto veloce. Non mi aspettavo una mano così forte, altrimenti avrei fatto la trap. Ok, onesto. Understandable, Emanus Dei. Allora, Emanuele 64 va primo. Vediamo se riuscirà a vendicarsi. Ok, qua parte zero interruzioni. Con super fattoriale e mano doppia exid. Bruttina come mano. Cioè, comunque si starta, eh. Però. Per quanto riguarda, invece, Emanuele parte con a pointer, la monocopia a caso. Poi, Droll, Jet, Gamma Burst e Ipiria. Qua è letteralmente normale Ipiria. Preghiamo. Aspetto. Peschiamo Double Cross. Ok, Jet, effetto. Va a prendere... Blu. Non ho capito. Vabbè. Passiamo dallo start, insomma. Non c'è starter. Ho capito, si è bloccato. Aiuto! Aspetto, Blu. Vabbè. Più o meno sarebbe stata la stessa cosa, no? Perché, comunque, Jet avrebbe preso starter. Starter avrebbe evocato Blu. Sarebbero stati dei life points in meno. Vabbè. Allora. Blu va ad aggiungere Red. Red si evoca. Ipiria e Jet vanno ad evocare. Mannaggia. Sprint. Devo fare fast forward. Sprint riesce a risolvere a sto giro. Va a mandare a Nibble Angler. Angler porterà dal mazzo i due castori. Se solo Nextplay funzionasse. Qui... Mannaggia la Madonna. No, mi dissocio. I due castori quindi entrano. Fast forward. Vanno a fare Gigantic Sprite. Effetto. Stacco. Evoco. Jet. Soprappongo. Vado a fare Gattamanichino. Setto Double Cross. Immagino che verrà settata anche Red Lotus. Starter mandata dal mazzo. Perché probabilmente si sono resi conto del fatto. Non so. Forse stavano su Discord. Non si spiega. Altrimenti. Trassone. Ok. Se ne sono resi conto. Drawface. Lotus. Niente. Qua forse... Continuano a non fusione. Trassone. Bruttissima come cosa. G3. Oddio. Santissimo. Cos'è? Mind Control. Contact C. Droll. Triple tattiche. E starter. Se non ci fosse starter qui sarebbe un disastro sta mano. Rivalità. Duster. Diametro. Ash. Small World. Ok. Attivo Small World. Rivelo Ash. Rivelo Vayler. E rivelo Circular. Perché Small World in questo mazzo da qualsiasi cosa puoi arrivare a qualsiasi cosa. Letteralmente. Effetto Circular. Droll. Ok. Mando Sigma. Evoco. Contact C. Unlucky. Normal diametro. Effetto. Reborn. 1 e 2. Diventano Maschezzozza. E infatti viene utilizzato lui come materiale Xyz. Interessante. Setto Rivalità. 1 e 2. Vanno ad evocare Splash Mage. Effetto di Splash Mage. Voglio rebornare. Reborn a Sigma. 1 e 2. Vanno ad evocare... Vanno ad evocare... Sì. Lui. Decodal Carry Soul. Mamma mia. Non riuscivo a ricordarmi il nome. Effetto di Soul. Voglio pescare. Circular. Amati. Mind Control. Su Mascherena. Ok. Va bene. Starter in catena. Carino. Mando Mascherena al cimitero. Effetto di Blue. Aggiungo Jet. Ehm... Ok. Special Jet. Effetto. Voglio andare a prendere Smashers. Effetto di Smashers. Vanno Rivalità. Red Special. 1 e 2. Vanno ad evocare Sprint. Effetto di Sprint. Mando al cimitero Angler. Effetto. Evoco specialmente due... Talpe. Dal mazzo. 1 e 2. Vanno ad evocare Gigantic Sprite. Effetto di Gigantic. Stacco. Evoco Ipiria. Effetto di Ipiria. Voglio pescare. Nesco Nibiru. Non male. 1 e 2. Vanno ad... Ci sta ripensando. Nel frattempo Pollo. Va bene. Vanno ad evocare Gatta Manichino. Ehm... Effetto di Gatta Manichino. Target. Mascherena. Ok. Target per evocare. It's all. Mascherena. Effetto. Vuole linkare. Va a fare Wicked. Talenti. Fotte Wicked. Battle Faces. Non sono tutti. Assolutamente. Sono 3200. 50002. Ehm... 6000. Giusto? Fatto bene i calcoli? Sì. Mamma mia. Sono canne nella matematica. 1 e 2. Vanno via. Vanno a fare Mascherena. Non vuole mostri link Mascherena? Cioè. Vuole mostri non link. Quindi. Ok. Quindi 1 e 2 vanno ad evocare. Sprint. Ok. Va bene. Ci sta. End Phase. Super fattoriale di Top Deck. Shura pensa. Guarda il cimitero. Sta perdendo tempo. Lo vedo. Circular. Effetto. Ok. Sì. Non so perché non stava risolvendo. Mando Addizione. Effetto Sigma. Vuole entrare. Un... Circular Effetto. Aggiunge Equazione. E... Entra la combo TK? Tecnicamente potrebbe. D'Alembertian. Effetto. Ego. C'è Nibiru. Non c'è la negazione app al momento. Aggiunge Diametro. D'Alembertian. Norma di Diametro. Attiva Effetto. Va a Rebornare. Addizione. Effetto di Gatta Manichino. Entra Red. Perché ha traghettato fuoco. D'Alembertian. Reborna. Sprint. Vuole rimbalzare. Equazione. Reborna. Nibiru. Ok. Pulito. Setto. Stava spostando il token a caso. Va bene. End Face. Va bene ma c'è Superfattoriale. C'è il monocarta combo letteralmente. Superfattoriale. Evoco 3. Vado ad evocare. Xyz. Ed entra. Laplaciano. Effetto di Laplaciano. Detaccio 2. E niente. E qui è bella che è finita. Con Circular in mano. E niente. Il Gigi. Il caro Gigi. E niente. E' stato un bel duello. Saluti a Gaming Tonight. Saluti a tutti i fan di Gaming Tonight. Ragazzi. Questa era la commentary. Del terzo turno. Ehm. Di. Del torneo. E niente. Spero che questo video sia piaciuto. Noi ci vediamo come al solito domani. Alle 15. Con un nuovo video. Occhio. Ciao ragazzi. Ciao ragazzi. Ciao. 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 Grazie a tutti.